La sede provinciale di Forza Italia Salerno non era abbastanza capiente per ospitare i tanti che hanno voluto partecipare al brindisi per le festività natalizie con i vertici del partito. Nessuno ha voluto mancare all'incontro con Mara Carfagna che non si è sottratta alle domande su una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni regionali, non risparmiando anche dure critiche al governatore Vincenzo De Luca. Io non mi sono mai tirata indietro rispetto alle sfide con cui mi sono confrontata, so che voi volete farmi dire a tutti i costi che sono candidata, vi ringrazio, naturalmente mi lusinga perché intravedo dietro queste sollecitazioni anche una sorta di attestato di stima, però veramente non è il momento questo per avanzare le candidature. Non che non ci si stia pensando naturalmente, però un anno e mezzo è veramente un periodo lungo e ci sono altre sfide prima che ci attendono. Al di là della mia candidatura io penso che il tempo sia maturo perché sempre più donne ricoprano incarichi di rilievo. Tanto che giudizio si può dare ormai oltre metà mandato del governo De Luca qui in Regione Campania? Ma non è un giudizio positivo, la Campania sta addirittura peggio di prima, aveva promesso una rivoluzione nella sanità, una rivoluzione nei trasporti, nulla di tutto questo è accaduto, sicuramente noi ci troveremo e lo dico perché penso che riusciremo a vincere le elezioni regionali, abbiamo il dovere di farlo e ridetteremo una situazione difficile, fatta di inefficienze e di incapacità.